Siamo a Partinico, incontrata a Piano Fico, nell'abitazione di Evelina Paganesse, una donna determinata, grintosa, bergamasca. Tu ti trovi in Sicilia, da quando? Dal 2011, esattamente. Allora, sono qui, non intendo spiegare la mia storia personale, qui vedete tanti cani che in questo momento sono attaccati per ragioni di sicurezza, per evitare che vi facciano le feste, soprattutto per evitare che vi attacchino. Da quando sono qui in Sicilia mi sono accorta che la piaga del randagismo e l'inciviltà degli esseri umani portano tanti esseri viventi all'abbandono e al rischio e al disagio. Tu, dietro le quinte, prima dell'intervista, hai detto una cosa che mi ha molto colpito. Non è una passione quella che ti lega agli animali, ma è la consapevolezza che anche loro hanno diritto di vivere. È così, è così. Io credo che il genere umano abbia perso la propria cognizione di qual è il suo posto sulla terra, che peraltro è in prestito e che noi stiamo depauperando e rovinando, e abbia perso la cognizione e la consapevolezza del rispetto per la vita. I cani sono l'emblema di questa perdita del genere umano da queste parti. Quanti cani ci sono in questa abitazione? In questa abitazione al momento ce ne sono 15, tra quelli miei, quelli più ammalati e quelli che cercano adozione. Ovviamente, so perfettamente che è illegale, più o meno circa, detenere 15 cani. Sarà mia cura adeguarmi a quello che è il nuovo decreto assessoriale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, chiedendo le necessarie autorizzazioni e naturalmente consentendo i controlli da parte dell'ASP. Cosa ti comporta la cura di tutti questi animali e come comunichi con loro? Devo dire la verità, la cosa più bella, avendo a che fare con i cani, è lo scoprire come sia possibile comunicare con esseri viventi che non utilizzano il linguaggio della parola, utilizzano i gesti, utilizzano il cuore, utilizzano anche i denti a volte, ma si può imparare anche da questo. Che cosa comporta questa cura? Comporta la sveglia alle 4 e mezza perché poi io alle 8 devo partire per Palermo per andare a lavorare dal lunedì al venerdì. Comporta il fatto che rientro a casa alle 7 di sera e le prime cose da fare sono ovviamente cibo e terapie per loro e poi le pulizie. Poi se c'è tempo mangio anch'io, forse. Evelina, dall'amore che tu nutri nei confronti dei tuoi cani, ma dei cani in genere, perché accudisci anche dei cani in randaggi, è nata l'innignazione di non avere la possibilità di avere un canile a partinico. Guarda, più che indignazione io lo definirei incazzo furioso, dalle mie parti si chiama così. Ed è un incazzo furioso che da un paio d'anni mi ha portato ad approfondire non solo le legislazioni, ma il perché si sono determinate alcune situazioni qui in Sicilia. L'esempio di partinico è emblematico. Un'amministrazione, a mio giudizio, dissennata da 10 anni a questa parte, non ha fatto assolutamente nulla. Per dimostrare probabilmente alla Regione che stava facendo qualcosa per la piaga del randagismo, ha pensato bene di costruire un canile, ovviamente finanziato. Peccato che poi non l'abbia mai aperto. Forse l'ha costruito anche nel luogo sbagliato, ma questo è un altro ragionamento. Di fatto, nel momento in cui sono stati conclusi i lavori, non si è attivata per i necessari collaudi. Il risultato qual è? Che il canile ci sta continuamente deteriorando. Tra un po' bisognerà fare tutto da capo. Nel frattempo non c'è nessuna convenzione con un canile sanitario, per cui se si trova in giro un cane incidentato, bisogna piangere e pregare affinché l'attuale commissario faccia un'ordinanza per il ricovero. Ma questo tengo a precisare. Nonostante la Polizia Municipale, per quanto mi consti dalla mia esperienza diretta, cerchi di fare qualcosa rispondendo anche a quelle che sono le segnalazioni dei cittadini. Ma se poi l'amministrazione comunale non ha dato strumenti alla Polizia Municipale per operare, che si fa, io ho denunciato il comune di Partinico 15 giorni fa. Perché veramente... E questo l'ho fatto subito dopo che mi sono stati affidati i sette cuccioli da svezzare, da me rinvenuti qui in aperta campagna, dalla Polizia Municipale. Perché da un lato c'è la Polizia Municipale che cerca di trovare gente come me, cittadini consapevoli e responsabili, che possono occuparsi di questi esseri vivendi che vengono brutalmente abbandonati dagli incivili locali. Ma dall'altro non ci sono strumenti che per competenza il comune dovrebbe fornire affinché la Polizia Municipale possa operare come Dio comanda, si dice dalle mie parti. Se io trovassi un cane incidentato verrebbe la Polizia Municipale di Partinico a fare l'accertamento, ma quel cane probabilmente correrebbe il rischio di morire perché non c'è una convenzione con il canile sanitario. Questa situazione, tra l'altro, disincentiva la popolazione dal fare segnalazioni perché molto spesso in altri tempi gli è stato risposto che non possiamo fare nulla. Adesso, per fortuna, la Polizia Municipale ha anche pubblicato un avviso alla cittadinanza perché sta cercando persone di buona volontà che possano stallare, si dice così in gergo, cioè dare ospitalità o occuparsi temporaneamente di cuccioli abbandonati piuttosto che di cani sterilizzati dai veterinari dell'ASP, ma in questo albo purtroppo, tranne me e un'altra associazione, ancora non si è iscritto nessuno. C'è da tenere conto del fatto che il randagismo si combatte solo attraverso le sterilizzazioni, si combatte attraverso una mappatura di quello che è il fenomeno sul territorio. Qui invece, purtroppo, poiché mancano le segnalazioni, non c'è mappatura della quantità di randaggi che sono in circolazione. E, dall'altra parte, gli interventi di sterilizzazione, perché la legge prevede che per quanto riguarda i cani randaggi che sono in capo al sindaco o all'attuale commissario vengano fatti a cura dei veterinari dell'ASP, beh, attualmente ne viene fatta una ogni dieci giorni. Come si combatte il fenomeno del randagismo con una sterilizzazione ogni dieci giorni? Se ci fossero a Partinico dieci, quindici persone disponibili ad occuparsi delle cure, delle terapie dopo la sterilizzazione di questi cani, potrebbero essere quadruplicate o decuplicate le sterilizzazioni, quantomeno di tutte le femmine segnalate sul territorio che proliferano a GoGo. Ma attualmente io non vedo neanche la volontà da parte della cittadinanza di andare incontro ad una polizia municipale che sta cercando di fare qualcosa. Tu pensi che da questa denuncia può nascere la speranza e che questa denuncia possa essere uno stimolo per l'amministrazione di Partinico? Allora, premesso che non c'è amministrazione, io mi auguro che altre persone sensibili agli esseri viventi diversi da noi, possano intraprendere assumendosi le loro responsabilità alla stessa strada, quante più denunce ci sono a carico del comune di Partinico, quante più segnalazioni ci sono alla polizia municipale di abbandoni di cuccioli, di cani che hanno bisogno di assistenza, eccetera, beh, tanto più sarà evidente il fenomeno e qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti, secondo me. Non è una speranza, è un dato di fatto, quanto più si alza il polverone, quanto più si alza il tiro, quanto più chi ha l'autorità per farlo e chi ha la competenza per legge regionale di farlo è costretto ad intervenire.